Togliete gli ormeggi, pronti a salpare, tra pochi minuti si prenderà il mare. Il capitano di nave Carlotta è già sul ponte, decide la rotta, cala il berretto sopra la fronte, e avanti tutta per l'orizzonte. Carlotta è la nave più bella che c'è, puoi farci crociere degne di un re, con lei puoi vivere, se vuoi, tutto il mondo, per quanto è grande, per quanto è tondo, dal mar dei Caraibi fino all'Alaska, basta riempire di acqua una vasca, perché Carlotta è una nave speciale, che ho costruito con il giornale. Perché Carlotta è una nave speciale, che ho costruito con il giornale. Togliete gli ormeggi, pronti a salpare, tra pochi minuti si prenderà il mare. Carlotta è la nave più bella che c'è, puoi farci crociere degne di un re. Con lei puoi vedere, se vuoi, tutto il mondo, per quanto è grande, per quanto è tondo, dal mar dei Caraibi, sì, fino all'Alaska, basta riempire di acqua una vasca. Perché Carlotta è una nave speciale, che ho costruito con il giornale. Perché Carlotta è una nave speciale, che ho costruito con il giornale. Togliete gli ormeggi, pronti a salpare, tra pochi minuti si prenderà il mare. Il capitano di nave Carlotta, è già sul ponte, decide la rotta. Cala il berretto, sopra la fronte, e avanti tutta, è l'orizzonte. Perché Carlotta è una nave speciale, che ho costruito con il giornale. Perché Carlotta è una nave speciale, che ho costruito con il giornale. Togliete gli ormeggi, pronti a salpare, tra pochi minuti si prenderà il mare.